Non faccio per mestiere la politica, sono insegnante, faccio la mamma e l'insegnante, per cui mi sono ritrovata un po' coinvolta perché sento veramente che il nostro paese ha bisogno di cambiamento. Sono nella lista di Salvatore Garofalo non perché mi ha promesso qualcosa o perché gli devo qualcosa, ma perché credo che la gente per bene è parecchia e se insieme ci mettessimo sicuramente riusciremo a cambiare, a procurare un cambiamento, un cambiamento necessario in questo mondo corrotto che ci investe giornalmente e ci costringe alla sopravvivenza. Io non sono una grande parlatrice, più che altro sono una persona d'azione, mettetemi in trincea e sono pronta a lottare, per cui volevo solamente presentarmi, visto che mi presento nella lista del candidato sindaco Salvatore Garofalo e farmi conoscere e passo la parola a Enzo Cilia che forse è sicuramente più bravo di me.